Il 75% dell'assestamento di bilancio approvato in giunta regionale destinato al comparto della sanità, 79 dei 100 milioni di euro stanziati serviranno ad aggiungere risorse a quelle del Servizio Sanitario Nazionale. Nel documento contabile conferma il governatore anche consorsi di bonifica e spese di previsione per il funzionamento degli aeroporti. Il tavolo del centro-sinistra barese sulle comunali si chiude con un braccio di ferro ma senza strappi. Il PD formalizza la richiesta di azzeramento di tutti i nomi sul tavolo ma la sinistra della coalizione non ci sta e aumenta il pressing nei confronti del penalista Michele Laforgia. Gli architetti della Bata e i fornelli per un giorno professionisti in sfida al fianco degli chef per portare in tavola il design in mezzo a una giuria super partes per piatti al tempo stesso belli e buoni. Di nuovo insieme bentornati all'appuntamento con l'informazione da Bari Battefoggia. In primo piano la sanità e l'assestamento di bilancio approvato ieri dalla giunta di Via Gentile il 75 per cento delle risorse investito sul comparto della sanità e vale 79 milioni di euro. La giunta ha adottato una delibera da 100 milioni di euro e noi quindi abbiamo pareggiato i conti della sanità sia pure con molti sacrifici nonostante il governo non ci abbia dato un soldo in più nel 2023 nonostante l'aumento dei costi per il personale a causa dei nuovi contratti nonostante l'aumento dei costi per l'inflazione nonostante l'aumento dei costi per l'energia. Una manovra di assestamento di bilancio che vale 100 milioni di euro il 75 per cento dei quali sul comparto della sanità è destinato ad aggiungere risorse al servizio sanitario regionale visto che quelle del governo restano insufficienti contestano dall'esecutivo di Via Gentile. La giunta regionale infatti ha accordato il via libera nell'escursione al documento contabile ma pure alla variazione per l'esercizio 2023 pluriennale fino al 2025 che ora passa all'esame del consiglio. Sono in tutto 79 milioni di euro investiti sul versante sanitario mentre tra gli altri stanziamenti figurano i 4 milioni di euro di trasferimenti ai consorci di bonifica e i 3 milioni di euro sulle previsioni per le spese di funzionamento degli aeroporti pugliesi. Abbiamo bisogno di finanziamenti per allargare il numero dei posti letto e per assumere il personale necessario cosa che ovviamente è la discussione in questo momento in corso più importante nella sanità italiana perché senza soldi e senza personale questo inseguimento verso l'eccellenza non è possibile. Ieri è citato il giuramento dei nuovi camici bianchi a Bari insieme all'annuncio di nuovi centri per la sanità territoriale a firmarlo il sottosegretario Marcello Gemmato. Un momento di celebrazione della professione medica con i decani dell'esercizio ma ci sono anche i 300 neolaureati che giurano i principi etici e poi i pilastri che con i loro 25 anni di laurea sono sul campo e sostengono il servizio sanitario nazionale. La festa dei medici è organizzata nel teatro Petruzzelli di Bari ma anche un momento per ricordare le circa 380 vittime del covid e l'ultimo agguato contro Francesca Russo barbaramente uccisa in Aspromonte. Poi spazio la riflessione sui problemi e l'appello alle istituzioni. Credo che come dire si debba superare una sanità oggi che è una sanità gestita da burocrati e ragionieri. Abbiamo bisogno invece di riprendere quei principi ispiratori della 833 cioè della legge che ha istituito il servizio sanitario nazionale. Il nostro grido è quello di tutelare di più l'atto medico, la professione medica. Questo momento di riconoscimento della carriera è un momento anche di interlocuzione. Il presidente dei medici lancia un appello, quello della legge 883. Come rispondiamo rispetto a questa richiesta? Il presidente dell'ordine dei medici che voglio ricordare è Barese Filippanelli opportunamente rilancia tutta una serie di criticità che riguardano il mondo della sanità e che purtroppo si sono stratificate negli anni passati. Oggi ci troviamo a dover sostanzialmente risolvere. Come? Aumentando il posto e il numero degli studenti di medicina. Una definizione puntuale del PNRR che vede lo strutturarsi di 1.350 case di comunità, 605 cot, centro operativi territoriali. Anche aumentando il Fondo Sanitario Nazionale. Voglio ricordare che quest'anno il fondo arriva a 136 miliardi di euro. La politica con la marcia di avvicinamento alle comunali. Il centro-sinistra barese che torna al tavolo ma non trova la sintesi. Da una parte c'è il PD che chiede l'azzeramento dei nomi a disposizione. Dall'altra il blocco a sinistra che conferma quello di Michele Laforgia. Il tavolo del centro-sinistra barese sulle comunali si chiude con un braccio di ferro. Da una parte il PD che chiede l'azzeramento dei nomi a partire da quelli interni del deputato Marco Lacarra e degli assessori uscenti Pietro Petruzzelli e Paola Romano. Ma a patto che valga anche per gli altri a disposizione. E invece l'area della cosiddetta convenzione per Bari non ha alcuna intenzione di arretrare. Chiede unità e compattezza ma è ferma sul nome del penalista ed ex presidente della giusta causa Michele Laforgia chiedendo non solo agli alleati di spiegare perché debba essere lui a fare un passo indietro ma anche al PD di riflettere. La novità è in compenso e che a chiedere di sgombrare il tavolo da tutti i nomi compreso il suo ora è un blocco più largo di quello dei democratici. Tiene dentro i civici di conne sud al centro i popolari di Giannistea e altre sigle e associazioni di area in mezzo di Italia Viva che qualche ora fa ha formalizzato l'endorsement nei confronti della forgia ma che il Movimento 5 Stelle fatica a vedere come alleato fianco a fianco visti i rapporti nazionali tra le forze peraltro chiedendo che ora sia un nuovo profilo a fare da collante pur senza veti su quelli circolati finora spiegano insomma è più di una fumata grigia stavolta e se non si strappa le posizioni restano sempre più lontane. E c'è la replica alle posizioni delle quali vi abbiamo appena dato conto se ci sono forze che intendono porre veti prima sulle primarie poi sul nome dei candidati e infine sulle forze politiche che possano partecipare o meno alla coalizione Italia Viva ne prenderà atto e le conseguenze saranno inevitabili così dal partito di Matteo Renzi sulle richieste poste dal Movimento 5 Stelle di esclusione di fatti dei renziani della coalizione dal centro-sinistra per le comunali di Bari. In mezzo come stanno i territori ce lo dice intanto il ventiduesimo rapporto IMS. L'economia nazionale si è ripresa dopo la fase pandemica e così migliorano anche i dati generali e quanto emerge dal ventiduesimo rapporto annuale IMS presentato già lo scorso 13 settembre alla Camera dei Deputati a Roma ed illustrato anche a Bari. Prima di tutto il PIL nazionale incrementato del 3,7% migliora anche il mercato del lavoro con un aumento del numero di assicurati 26,2 milioni e delle settimane lavorate a ridursi e poi la spesa per la cassa integrazione passata dai 6 miliardi di euro del 2021 ad un miliardo nel 2022. Di 1.915 euro l'importo medio delle pensioni anticipate di anzianità quindi le famiglie natalità ai minimi storici con meno di 400.000 nascite registrate al 90% è però l'adesione all'assegno unico e universale. In evidenza ovviamente in termini anche numerici e di impatto sono tutte le misure che non sono state messe in campo dal legislatore per favorire l'inclusione lavorativa per le donne quindi la partecipazione delle donne al mondo del lavoro attraverso i bonus stati di nido ad esempio attraverso un allargamento del congetto parentale attraverso l'estensione del congetto di paternità e dipendenti pubblici. Per quanto riguarda la Puglia ci muoviamo nello stesso senso del resto del paese. Il 2022 è un anno di ripresa economica, un anno di ripresa del PIL, un anno di ripresa dell'occupazione, in particolare dei contratti di lavoro a tempo indeterminato. Anzi stiamo assistendo a un progressivo trasferimento dal lavoro autonomo al lavoro dipendente. E come stiano i nostri territori ce l'ha detto anche la classifica di Italia Oggi e della Sapienza di Roma con la novità ulteriore del focus sul capoluogo e dell'attacco del Vice Ministro Azzurro Francesco Paolo Sisto all'indirizzo di Antonio De Caro. Il Vice Ministro Azzurro Francesco Paolo Sisto punta il dito contro Antonio De Caro e l'amministrazione barese succede a poche ore dal tavolo del centro-sinistra sulle comunali ma soprattutto dai numeri della classifica sulla qualità della vita stilata da Italia Oggi e Università La Sapienza di Roma. Il capoluogo nella classifica finale si posiziona infatti all'ottantaduesimo posto su 107 province in materia di affare e lavoro e l'intera regione a restare fuori dalla top 10 a maggioranza occupata da territori del centro-nord e se mare destaprima lo fa comunque al settantasettesimo posto. In materia di disoccupazione maschile nella fascia 15-64 anni è sempre varia guidare le pugliesi ma in settantesima posizione mentre per quanto riguarda la disoccupazione femminile si trova al posto numero 83 e nel sistema salute allo slot numero 53. I numeri sono numeri, non è che i numeri si possono leggere diversamente da come sono e se siamo messi così male ci sarà un motivo, probabilmente bisogna porre rimedio a questa situazione, il rimedio è semplicemente il voto. Credo che c'è necessità di un cambiamento, forse troppa comunicazione e poca sostanza. Noi dobbiamo sostituire tanta sostanza e magari anche un po' meno comunicazione. Cambiamo pagina con la cronaca spaccio di droga nel nord barese con l'operazione blackout dei carabinieri. Ci sono sette misure cautelari, vediamo di che si tratta. Blitz dei carabinieri questa mattina a Trenitapoli in sette sono stati ammanettati all'alba seguito dell'operazione blackout che ha coinvolto 50 militari del comando provinciale di Barletta Andrea Trani con il supporto dei reparti specializzati dello squadrone elipilotato cacciatori Puglia, del nucleo cinofili di Modugno e dell'undicesimo reggimento Puglia. Si tratta di uomini di età compresa fra i 20 e i 40 anni, tutti di Trenitapoli con precedenti penali. Per i sette indagati l'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività trae origine da alcuni interventi effettuati dai carabinieri di Trenitapoli all'interno del quartiere Urra Casas, convenzionalmente denominato case maledette di Trenitapoli che ha portato al rinvenimento e sequestro nel 2021 di un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti, nonché alla segnalazione amministrativa di alcuni acquirenti. Sulla base di questi risultati investigativi, i militari della stazione Carabinieri di Trenitapoli hanno intrapreso dal novembre del 2021 un'attività di indagine cosiddetta tradizionale, coordinata dalla Procura di Foggia, dapprima attraverso osservazione, pedinamento e controllo strumentari ad individuare persone coinvolte nell'attività illecita e modalità operative utilizzate. Successivamente i militari si sono concentrati sui riscontri dell'attività illecita di spaccio nelle zone nevralgiche del quartiere. In particolare nel corso delle indagini sono state riscontrate oltre 700 cessioni di sostanza stupefacente, denunciate per detenzione ai fini di spaccio a 12 persone, denunciate 31 persone per favoreggiamento personale e segnalate altre 20 ritenute responsabili di aver acquistato droga. La maglia numero 12 della Virtus Mola, la squadra della quale era portiere, i guantoni, il pianto composto dei genitori e uno striscione nero su bianco. Matteo vive ieri pomeriggio il funerale di Matteo Capelluti, 17enne morto venerdì della scorsa settimana dopo un incidente in moto. La barra bianca adornata di fiori blu, la maglia da portiere e la sciarpa con i colori della Virtus Mola è il numero 12. Nel silenzio di un sagrato di San Nicola dove sono arrivati tantissimi ragazzi, familiari e parenti, il pianto composto di una madre che non potrà più avere accanto suo figlio a causa di una fatalità e poi gli striscioni dei suoi amici di squadra, uno bianco su nero Matteo vive e così sarà per tutti coloro che hanno voluto bene a Matteo Capelluti, il 17enne barese degeduto in un uggioso venerdì 17 di metà novembre dopo 24 ore in rianimazione all'ospedale di Venere di Bari. Giovedì mattina intorno alle 8 l'incidente con la sua moto, una moto di cui si dice avrebbe voluto disfarsi. Stava percorrendo Corso de Gasperi, l'arteria veloce scorrimento che collega il quartiere Carbonara al centro città. Stava andando a scuola, liceo scientifico Scacchi, il giovane Matteo quando avrebbe perso il controllo del mezzo sul rettilineo all'altezza di un distributore di benzina in fase di allestimento. Il 17enne avrebbe fatto un balzo di qualche metro battendo la testa su un palo della pubblica illuminazione. Il suo casco, allacciato, stando a quanto dicono gli inquirenti, sarebbe stato ritrovato vicino al giovane ma diviso in due parti. Sarà la magistratura barese adesso a stabilire le cause del sinistro che ha provocato la morte di Matteo. La colpa potrebbe essere dell'asfalto disconnesso, una buca o un cordolo preso male. Vero è che su Corso Accidi De Gasperi sono da tempo in corso lavori sulla rete fognaria che prevedono scavi e colato di asfalto come toppe. Nell'attesa di fare chiarezza su quanto accaduto l'area dell'incidente è stata posta sotto sequestro dalla magistratura del capoluogo. Quello che resta adesso di sicuro è quel senso di solitudine che rimarrà nei cuori di chi, a Matteo, ha voluto bene tra amici di scuola, compagni di squadra e genitori. Va a Matteo e insegna agli angeli a parare. Prosegue l'attività del comitato di monitoraggio a sostegno degli enti sciolti per mafia nelle scorse ore i dirigenti del Viminale a Foggia. Oggi parleremo dello stato dell'arte dopo questo periodo di mancanza di un sindaco, degli organi collegiali tipici di un ente locale. Il comune di Foggia prova a mettere una pietra sopra alla triste pagina dello scioglimento per infiltrazioni mafiose e guarda al futuro grazie soprattutto alle risorse del PNRR. E proprio il supporto per l'attuazione dei progetti finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta uno degli obiettivi delle attività del comitato di monitoraggio a sostegno degli enti sciolti per mafia, composto da dirigenti interni al Viminale e riunitosi nelle scorse ore a Palazzo di Città alla presenza dei massimi vertici della Prefettura e dell'amministrazione comunale. Parleremo anche di PNRR e mapperemo, proprio proietteremo alla Commissione, ai nostri ospiti odierni tutte le azioni che sono state messe in atto, in particolare per la rigenerazione urbana con sei progetti che riguardano vari contesti, vari quartieri della città per un importo di circa 60 milioni di euro e ci tengo a dire che il Comune di Foggia consegue anche delle premialità su alcuni progetti perché per ecco la progettazione virtuosa, la tempistica virtuosa che ha portato per alcune misure a un incremento del budget iniziale. Quindi dopo abbiamo in animo di rappresentare alla città le misure che stiamo realizzando e altre alcune piccole misure che sono state anche inviate all'attenzione delle autorità di gestione nella settimana scorsa o due settimane al massimo. Anche Foggia celebra la Virgo Fidelis, santa patrona dell'arma dei carabinieri. Proprio questo è il significato più autentico di questa celebrazione perché noi ci affidiamo alla Virgo Fidelis perché possa ispirarci di avere la forza di essere sempre fedeli allo Stato, alle istituzioni, al popolo e al cittadino e di farlo anche fino all'estremo sacrificio un po' come è accaduto ai carabinieri che sono morti nella battaglia di Culquaber. Quindi questi sono i nostri valori a cui ci ispiriamo e speriamo di essere all'altezza del nostro compito. Servire lo Stato ad ogni costo fino all'estremo sacrificio. Nel giorno dell'ottantaduesimo anniversario della battaglia di Culquaber e della giornata dell'orfano Foggia ha celebrato la Virgo Fidelis e i valori più alti dell'arma dei carabinieri. La Santa Messa, organizzata dal Comando Provinciale dei Carabinieri del Capo Lugodauno, è stata celebrata dal Vescovo Monsignor Vincenzo Pelvi nella parrocchia Madonna del Rosario e in via Guglielmi. Alla funzione hanno preso parte oltre ai militari in servizio anche le massime autorità del territorio ed alcuni bambini di una scuola materna della città. La cerimonia si è conclusa con un intervento tenuto dal Comandante Provinciale, il colonnello Michele Miulli, che ai microfoni sottolinea i passi compiuti dalla comunità verso un futuro proteso alla legalità. Noi dobbiamo aprirci e andare incontro alla cittadinanza, dobbiamo essere accoglienti, dobbiamo sempre essere disponibili a raccogliere ogni tipo di suggerimento. Noi dobbiamo dare fiducia perché solo dando fiducia riusciamo ad essere ricambiati e a fare in modo che la cittadinanza abbia fiducia di noi. È un percorso, magari è lungo, è tortuoso, è difficile, ma noi non ci possiamo arrendere di fronte a queste difficoltà. Quindi l'invito sarà sempre quello di denunciare perché le nostre casemme saranno sempre aperte ed accoglienti. Abbiamo fatto tanto e i risultati sono a testimoniarlo e non è questo il momento per ricordarli, però ci sono anche dei segnali positivi. Non più tardi di qualche settimana fa a Manfredone c'è stata una bellissima manifestazione in cui la gente comune ha semplicemente deciso di mostrarsi e di decidere da che parte sta. Questo è un segnale positivo che noi dobbiamo cogliere e su cui dobbiamo lavorare per il futuro in questa provincia. E adesso un'altra pagina che parla di benessere, autostima, femminilità, attivati anche nella sesta provincia pugliese, i laboratori gratuiti di bellezza per donne con patologie oncologiche. Si demoralizzano vedendosi allo specchio, non si riconoscono più, quindi avere la possibilità di fare questi laboratori con loro, da loro un po' di forza, un po' di speranza, un po' di fiducia in se stesse. Laboratori di bellezza gratuiti per aiutare le donne a riconquistare il senso di benessere e l'autostima senza rinunciare alla propria femminilità. È l'obiettivo che porta avanti la forza e il sorriso onlus in tutta Italia da ormai 16 anni e che ora ha una sede in più nella sesta provincia pugliese, precisamente ad Andria, grazie alla collaborazione con Calcit. Nasce da un'idea di un oncologo americano nel 1989, accogliendo poi le espressioni di sconforto di una sua paziente, decise di farla truccare e il risultato fu eccezionale. Da lui nacque questa idea di creare quello che internazionalmente si chiama look good, feel better. Noi abbiamo deciso di chiamarlo la forza e il sorriso perché per affrontare il carbcro si vuole molta forza ma anche un bel sorriso. Il laboratorio di bellezza riunisce per circa due ore un gruppo di 4 o 6 donne che assieme ad un beauty coach apprendono utili consigli ed accorgimenti al fine di mascherare gli effetti secondari delle terapie oncologiche. Gli appuntamenti saranno periodici e gratuiti ma soprattutto aperti a tutte le donne che ne faranno richiesta direttamente al Calcit anche grazie al supporto dei reparti di oncologia ed ematologia degli micoli di Barletta. La violenza non è soltanto quella fisica, nel caso specifico di questo progetto la violenza è data da una malattia rispetto alla quale una qualunque carezza, la minima carezza, può fare la differenza. Un progetto che colma un vuoto sul territorio del nord barese. Ancora salute quella che si lega a doppio filo all'innovazione come nel caso dell'istituto di ricerca Maugeri di Bari e del nuovo centro di riabilitazione robotica. E su, su bene dritto, su bene dritto, e voilà. Un'altra cosa in piedi eh. Inaugurato all'IRCCS Maugeri di Bari un nuovo centro di eccellenza di riabilitazione robotica. Il tutto grazie anche al progetto Fit for Medrob, finanziato dal PNRR per rivoluzionare gli attuali modelli riabilitativi assistivi per persone con funzioni motorie, sensoriali o cognitive ridotte o assenti. L'attenzione è sulle tecnologie già disponibili ma non completamente convalidate e su quelle emergenti ma da verificare. La finalità ultima è incanalare tutto questo nel sistema sanitario e sostenerne l'impatto sul sistema salute nazionale. Lo scopo di questo progetto è trasformare in maniera moderna e contemporanea il concetto di riabilitazione. Cioè facendolo uscire da schemi precedenti non particolarmente moderni e impornendo la tecnologia che consente di individuare ciò che c'è da riabilitare, come riabilitare e misurando i risultati dell'abilitazione. Quali ricadute possono esserci sul territorio e quali partnership con le università e con le disposte? Noi crediamo come IRCS che l'appoggio delle università come il modello che abbiamo anche in tutte le altre regioni. Ricordo che Maugeri è presente in sei regioni e ha nove IRCS, quindi per noi la partnership con le università è fondamentale proprio per progredire nel nostro intervento e per essere sempre comunque a fianco dei pazienti. Si creerà un centro di eccellenza per tutto il centro sud Italia, quindi difficilmente troveremo centri di questa valenza riabilitativa con la robotica. La ricaduta quale sarà? Quella di dare un servizio migliore al paziente grave che viene ricoverato da noi per permettergli di tornare nelle migliori condizioni possibili alla vita sociale. Con gli eventi dell'università sono strategici ovviamente, teniamo presente che in Maugeri lavorano diversi professori universitari. E adesso la pagina degli eventi, dalla BAT con gli architetti e i fornelli per un giorno in sfida con gli chef per portare in tavola il design. Cibo e design sono le due associazioni che ognuno fa quando si pronuncia la parola cucina. L'ordine degli architetti BAT, cuochi e pasticceri della sesta provincia pugliese hanno perciò dato vita ad una sfida tra i fornelli. Si chiama il design servito, l'evento formativo che ha riunito a Barletta i professionisti della provincia per saltare in padella le proprie capacità ed impiattare idee che siano al tempo stesso buone e belle. La nostra professione e quella specifica del cuoco, quindi legata al food, sono molto vicine nel senso che sia noi che loro in qualche maniera progettiamo i piatti culinari, noi comunque progettiamo tutto ciò che è intorno al piatto stesso. Una vera e propria gara di cucina che ha visto sfidarsi otto architetti, 40 minuti di tempo per creare un piatto innovativo da proporre ad una giuria composta da tre cuochi professionisti e due architetti. Il gusto va abbinato all'occhio e oggi si mangia anche con gli occhi. Gli architetti sanno cucinare? Certamente sì, è ovvio hanno un supporto di alcuni tecnici ma poi loro terminano il piatto con quello che è la loro idea. Ho imparato dai cuochi che mi accompagnano in giuria a leggere veramente la qualità del sapore così come io posso dare a loro quella che può essere una lettura diversa dell'estetica in generale del piatto. Un modo per vedere il bello da più punti di vista e gustare il buono attraverso il mezzo che accomuna chef ed architetti, il palato. Prima di chiudere una brevissima, Federalberghi Puglia annuncia che presenterà ricorso al Consiglio di Stato contro il rigetto della sospensiva da parte del Tarra per l'istituzione nel giugno scorso della tassa di soggiorno a Bari. La novità è che ieri è stata resa nota l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale che di fatti respingeva le richieste tanto di Federalberghi quanto dell'Associazione Extralberghiero del Barese. Il provvedimento però viene ritenuto dall'Associazione Ingiunto ingiusto in quanto non verrebbe riconosciuto il grave danno irreparabile. Così è ancora muro contro muro. Noi intanto qui ci fermiamo. Grazie per essere stati con noi. La linea torna alla rete per le notizie da Taranto. Brindisi e Lecce. Arrivederci. Rimani connesso. Scarica gratuitamente dagli store o tramite QR Code la nuova app di Antenna Sud. Più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata. Seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on-demand da qualsiasi dispositivo.